Il cancro può essere ereditario? Questa domanda assilla tantissime persone colpite da tumori o con familiari che hanno vissuto questa malattia. Abbiamo imparato che il cancro deriva da una serie di errori del DNA. Una cosa fondamentale da capire è che non è che c'è un piccolo errore e via parte il cancro. La formazione del cancro è un processo che richiede un accumulo di errori. Possono essere casuali e questi aumentano con l'età oppure possono essere dati dall'ambiente e quindi da agenti chimici, da virus, da radiazioni oppure un codice genetico può già essere trasmesso con qualche errore e questo è il caso del rischio ereditario. Non è che tutte le persone che ereditano una mutazione svilupperanno certamente il cancro così come non tutti quelli che fumano si ammaleranno, non tutti quelli che si espongono male al sole avranno un cancro della pelle. Il cancro è una malattia complessa ed è data proprio dall'interazione tra l'ambiente e la nostra genetica, dall'accumulo di mutazioni. Chiaramente se su un DNA che già presenta qualche errore iniziamo a fare anche ulteriori danni la probabilità di avere un cancro ovviamente aumenta. Se vuoi vedere altri video di questa serie in cui cerchiamo di capire come nasce e come proteggerci dal cancro.